we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo una tonnellata di news per quello che riguarda il futuro di fortnite con la pace di ieri 14.20 sono state scoperte un sacco di nuove cose fighissime che stanno per capitare in game collaborazioni l'arrivo di nuove skin ma anche tutto quello che verrà fatto da tony quindi ovviamente sto parlando di iron man per quello che riguarda le modifiche all'autobus della battaglia e alle nuove location vedremo tutto in questo video ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è bam proprio lui ragazzi blade tutti conosciamo sicuramente i film di blade per chi non lo sapesse è un uomo metà vampiro metà umano che come scopo nella vita appunto quello di fare l'ammazza vampiri come facciamo a sapere che blade sarà la prossima collaborazione con fortnite per parecchi piccoli indizi che sono stati lasciati sia da fortnite che da marvel il primo è quello della pace appunto 14.20 dove al suo interno c'era proprio un easter egg che citava la scritta day walker day walker è uno dei metodi con cui si chiamava blade e quindi i fan hanno capito subito il secondo indizio invece arriva direttamente da un tweet di marvel entertainment dove si vede chiaramente un paio di occhiali da sole il sole il vampiro le spade fortnite nexus war e galactus questo ragazzi non è altro che la conferma dell'arrivo del nuovo bundle di blade e il terzo indizio il più importante è quello trovato nei file di gioco di fortnite dove si vede la sagoma della skin più indietro vediamo invece il suo piccone e vediamo anche in basso che c'è un emote dedicata quindi sarà proprio un bundle completo con skin backpack piccone ed emote probabilmente non obbligatoriamente venduti insieme ma sono abbastanza certo che si possa splittare l'acquisto quindi tanta tanta roba per blade non vediamo l'ora di vederlo nel negozio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'altra immagine davvero interessante che i fan hanno notato e che si riferisce ad una nuova ltm come vedete la particolarità è proprio quel gigantesco coso gonfiabile giallo presente nella mappa e non dovrebbe essere unico perché ho un video uno spezzone video che ci mostra praticamente quanti ce ne saranno sparsi per la mappa lasciate ovviamente perdere il fatto che li vedete sospesi nel cielo questo è solo per farvi capire che non sarà l'unico gigantesco coso gonfiabile sappiamo però che la ltm avrà un nome e si chiamerà idrogen ltm e ci dicono sarà una large game modo quindi un grande gioco di squadra probabilmente dove la parte fondamentale del gioco saranno appunto questi trampolini e abbiamo due stringhe nei file di gioco idrogen capture point pleasant park frenzy farm lazy lake e slurpy swamp potrebbero essere le location nei quali i trampolini sono presenti purtroppo non abbiamo altre informazioni per quanto riguarda la modalità di gioco ma staremo ovviamente in allerta e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo tony ha messo in atto il piano di modifica del bus della battaglia qualche giorno fa avevo già parlato di un progetto che è presente su una lavagna proprio nelle stark industries e che andava appunto ad elencare delle modifiche che voleva fare per chissà che cosa non lo sappiamo probabilmente dare la possibilità all'autobus di raggiungere nuove location non ne abbiamo assolutamente idea ma questi sono presenti nei file e questo è proprio come diventerà tra pochi giorni mi mi auguro mi aspetto il nuovo autobus il nuovo battle bus prima però di vederlo così vi ricordo che ci sarà l'evento del compleanno o meglio la serie di sfide per il terzo compleanno di fortnite e abbiamo delle immagini esclusive su come verrà trasformato l'autobus niente di eccezionale per tutti quelli che hanno vissuto gli altri compleanni ci sono sempre i palloncini la musichetta del buon compleanno il pallone aereo statico che viene incartato con una carta regalo e tante strisce colorate il numero 3 sarà presente sul tetto dell'autobus quest'anno tra l'altro arriveranno anche una bella serie di sfide che ci regaleranno tantissimi premi e una bella botta da 80.000 punti esperienza ci saranno delle torte come al solito sparse in giro per la mappa le dovremmo trovare consumare dei pezzi e in modo che veniamo appunto ci viene dato shield oppure salute il premio finale al completamento di tutte le sfide è il backpack la fetta di torta con il numero 3 sopra quindi ragazzi vabbè grazie a epic games per regalarci tanta roba anche per il compleanno e andiamo avanti perché ovviamente lo sapete meglio di me rocket league da ieri finalmente è disponibile gratuitamente in tutto il mondo e già questa è una figata grazie grazie a epic games per averci regalato un videogioco bello quanto rocket league e per avere la volontà di volerlo riportare al successo che loro ritengano meriti sappiamo ragazzi che ci sono cinque sfide da completare su rocket league che daranno delle ricompense sia nel gioco sia su fortnite quindi mi raccomando scaricatelo gratis giocateci in modo da sbloccare cinque ricompense e sappiamo anche che presto arriverà nella mappa una location un palazzo dove al suo interno ci sono dei riferimenti a rocket league come state vedendo proprio in questo momento in questa foto vediamo il poster di rocket league ma è presente anche una bacheca con il trofeo le due macchinine e per terminare c'è proprio tutta la sala dove sembra un garage per il tuning per la modifica insomma ragazzi tantissime le novità che stanno per arrivare in questi giorni tra l'altro vi dico anche che la patch 14.30 è già pronta quindi probabilmente settimana prossima potremmo avere un altro update io vi ringrazio tanto per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate dalle 8 in live su twitch ciao ciao